Questa è una cosa fantastica, ragazzi, bene? Molti di noi non avevamo bisogno, molti occhi tra i suoi uomini. A parte i suoi uomini. Tutti! Una uomini, tutti cagano l'anno, non cagano l'anno, non cagano l'anno. Bene, ascolta tu come non vorresti il luogo ideale. Un uomo con le crocine mai esiste? L'hanno è uno che dice che sto chiedendo un po' solo l'altezza. Non lo vogliamo, non lo vogliamo. Si è confinata bene? No, lui è confinata bene. Un camionero è un maniera. Ma cosa è che ci daremo? A loro che è, vede, riconoscendo che sono le salti, che sono le salti per il tuo libro. Prego, 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 prego. Davide, dammela a me, venite qua, è uguale, venite qua, venite qua, ne ho degli altri, dai, dov'è che sono? Sarà stato fatto qualche scambio, metti un attimo, qua, 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 questi non sono arrivati? Vediamo un attimo, quanti cuori? Eh? Fai un balletto? Sì, allora, bene, è ruspa, è ruspa, è tremendo, eh? Allora, vediamo un attimo.